effetto frattazzato dopo aver accuratamente preparato la superficie come indicato nelle schede tecniche stendere la prima mano di decorsil venezia con una spatola in acciaio inox in maniera uniforme livellando il supporto a distanza di 7 8 ore applicare con lo stesso attrezzo la seconda mano in strato sottile successivamente procedere alla lisciatura e lamatura della superficie con frattazzo operando con movimenti circolari